Adesso vi faccio vedere il portale. È importante intanto dire che è un punto di partenza questo. Noi stiamo lavorando da circa, da quando ci ha dato l'incarico, da ottobre, ogni giorno con tutto il mio team, che ringrazio, ma non è nient'altro che un punto di partenza, perché continueremo a sviluppare, continueremo a aggiungere funzionalità, continueremo insieme con voi a cercare di capire come migliorare nuove funzionalità e darvi degli strumenti, sempre per essere avanti. Partiamo direttamente. Vedete che c'è il classico, c'è un home page, un home page con un motore di ricerca, dove andremo a vedere adesso come possiamo ricercare casa, ma già iniziata a vedere che non cerchiamo solo case immobili in vendita, ma cerchiamo anche immobili in affitto. Possiamo cercare l'agenzia, ma ancora più innovativo, noi possiamo ricercare l'agente e vedremo con quali caratteristiche. Dopo il portale, sotto il motore di ricerca, che cosa abbiamo? Tutti gli annunci visitati, è già qui importantissimo che voi mettiate le vostre foto nel vostro profilo e dopo gli ultimi annunci visitate, avete, dopo che cercate una via, che è un cliente finale sta cercando una via di un immobile in vendita, in affitto, eccetera, il motore si inizia a vedere tutti gli agenti nella zona della tua ultima ricerca. Vedete che quindi qui, io ho cercato una zona a Milano, escono fuori questi agenti di questa zona, chi conosce Milano è la zona Solari, ci siamo un po' ricreati, e non scherzo, alle card di Fortnite, a FIFA, a questi giochi dove ogni giocatore ha 80 in difesa, 20 in attacco e ha delle forze. L'agente immobiliare ha delle forze, ha delle specializzazioni, svolge delle attività, e che cosa c'è nella card? C'è il nome, c'è il ruolo, tipo il title, come in LinkedIn, quindi iniziate già a capire che a fianco alle ricerche tradizionali c'è tutto il mondo LinkedIn, è come se fosse un network degli agenti immobiliari professionisti. Infatti, Cerca Casa non è solo per trovare la casa ideale, ma Cerca Casa.it è anche per cercare i migliori professionisti dell'immobiliare. C'è anche lo stesso logo di Cerca Casa, che vedete che c'è l'Omino, non c'è la casa in Cerca Casa nell'Omino. L'Omino è, siete voi, è l'agente immobiliare che aiuta il cliente finale a trovare la casa ideale. Ecco perché è fondamentale il brand di Cerca Casa con l'Omino a fianco. Che cosa c'è attorno nella card, nella carta di Daniele Mancini? Quindi il titolo che lo scrivete voi, la via dove lavora, io ho ricevuto due recensioni con 4,5 di media, quindi tutto il mondo delle recensioni, sono stato salvato nei preferiti da una persona, e una persona mi ha messo like. O in vendita, è un esempio, come vi dico, siamo in test, quindi dopo siete voi che riempite queste informazioni, io ho due case in vendita, zero in affitto, ho venduto una casa, non ho affittato nessuna casa. Lavoro nell'area di Genova, di Nervi e altre aree che andremo a vedere, faccio compravendite al 40%, locazione al 40% e poi cliccando vado a vedere le altre mie attività, le altre forze, che lo chiamo forze, che ho. Sono specializzato anche in immobili a reddito, immobili commerciali, faccio parte della socializzazione FIAIP con il logo, e poi andremo a vedere cos'è questo loghino, perché anche qui voi dovete immaginare casa it immobiliare, idealista, eccetera, che parlano di annunci. Noi abbiamo lavorato tanto per non avere più solo annunce, solo agenti, ma siamo riusciti anche tramite questo, anche dei sistemi, e in questo caso è l'altra società che seguo, che si chiama UIS, siamo riusciti a collegare il cerca casa al Catasto, alla Conservatoria, alla Camera di Commercio, eccetera. Quindi noi tutto il cerca casa ha delle, qualcuno parla, si chiamano API, le Application Protocol Interface, sono queste chiamate, ogni volta noi andiamo a chiamare il Catasto, la Camera di Commercio, la Conservatoria per avere i dati veri. Quindi in questo caso questo agente ha il bollino anche verde e quindi significa che non ha negatività per sei mesi. Negli ultimi sei mesi non ha nessun protesto, nessuna negatività, e anche noi dobbiamo dare valore agli agenti che diciamo che sono senza negatività, tutti come ho detto con codice ATECO 6831, ma noi dobbiamo dare forza sempre di più agli agenti e dare loro visibilità. Quindi questa è l'area che potete anche, per andare a mettere in ordine, per compravendite, locazioni, aste, property find, assicurazioni, eccetera. Se io adesso vado, sotto c'è tutta la parte che si chiama SEO, che è tutta per l'indicizzazione in Google. Se io adesso provo a fare una ricerca, ritorniamo nel motore di ricerca, qui ci sono diverse maniere per cercare casa. L'utente può cercare casa digitando un indirizzo, l'abbiamo collegato a Google, cliccando vicino a dove ti trovi, ti diamo l'area di dove ti trovi, selezionando una zona su mappa, e qui puoi vedere tantissime mappe, quindi non solo le mappe OMI, abbiamo catalogato tutta l'Italia con delle zone e delle città, ma anche puoi disegnare l'area su mappa. Normale che questo lo stiamo vedendo in desktop, ed è tutto quanto anche in M-Site, quindi è un altro sito, ma è anche per il mobile. Se io adesso cerco casa, per esempio in via Valparaiso, vedete che si collega adesso a Google, mi dice andiamo a vedere via Valparaiso, entro dentro, posso vedere tutte le tipologie eccetera, ma quando entro dentro, io qui già vedete delle differenze rispetto agli altri portali. Intanto potrei già andare a decidere tutte le case in vendita in via Valparaiso con un incarico, un'esclusiva. L'esclusiva, cioè vedrete che nella vostra area voi potete collegare l'immobile al catastro e bloccate l'immobile, per voi metterete una data, l'incarico in esclusiva, da quando a quando e nessun altro può mettere con quelle date un altro immobile e promuovere un altro immobile in questo portale. Naturalmente dovete mettere i dati catastali, perché noi ci basiamo sul subalterno, così come in Australia e in America c'è il numero dell'appartamento, noi in questo portale vogliamo fare anche noi così e mettiamo il numero del subalterno. Può essere non obbligatorio, certo, ma se tu vuoi avere l'esclusiva lo devi inserire e a quel punto noi ti diamo molta più visibilità, nessun altro può inserire un incarico mettendo lo stesso subalterno e tutti voi avrete il logo in carico, come in questo caso, in carico in esclusiva. Quindi io ricerco nella via, potete per prezzo, per superficie, ma anche per rata finanziamento, cioè io voglio vedere una rata, un immobile che mi dà una rata, noi abbiamo messo dentro un tasso di interesse fisso a 30 anni, dammi tutte le case per spendere da 650 euro a 900 euro di rata e noi andiamo a filtrare tutte le case e vi restituiamo tutte le case, avete qui l'immobile con tutte le case, le potete visualizzare naturalmente su mappa e quindi andate a vedere tutte le varie case su mappa e quindi entrerò nella case, andremo a vedere l'annuncio. Io però posso lo stesso rimanere qui dentro e posso andare a cercare le case in affitto, le agenzie che ci sono in via Valparaiso, quindi io posso rivedere tutte le agenzie che ci sono in via Valparaiso, ma di più io posso inserire anche il nome e quindi scrivere direttamente il nome dell'agenzia e entro dentro nell'agenzia. È lo stesso per l'agente, io posso andare a ricercare tutti gli agenti che ci sono nella zona in via Valparaiso, ma posso anche dire danni gli agenti di un determinato gruppo slash network che sono specializzati in compravendita, in locazioni eccetera, che hanno e trattano aste immobili a reddito, che parlano la lingua inglese, francese o quello che è, che hanno almeno da 10 a 12 anni di esperienza e che lavorano solo col mandato in esclusiva. Immaginate la potenza di questo motore di ricerca, voi potete ricercare l'agente sia in via Valparaiso, ma come vi ho detto potete anche ricercare l'agente vicino a dove ti trovi, puoi selezionare una zona uguale, lo stesso motore per le case, adesso ce l'abbiamo per gli agenti. Cioè la nostra forza è aiutare il consumatore finale a trovare il miglior agente. Più inserite informazioni andremo a vedere, più la gente avrà visibilità, più verrà condiviso, più avrà like eccetera, più la gente avrà visibilità. Ritornando nelle case, se io adesso entro in questa casa, per esempio in esclusiva, classico annuncio, adesso non mi trattengo troppo sull'annuncio, perché qua è abbastanza come se fosse un normale, abbiamo messo tutte le varie informazioni, ripeto è in esclusiva, l'annuncio in questo caso è collegato dall'agente ad un immobile in catastro, quindi qui risulta, non mettiamo naturalmente i dati del catastro, tutti i dati verranno solo messi nella parte gestionale, ma voi avete tutte le foto, vi potete vedere le foto, le planimetrie, i video, i 360, non ho messo quel 360, vi potete vedere tutto, potete vedere la casa, non entro troppo nel dettaglio di questa parte, che è abbastanza classica, c'è il video, c'è tutto, basta cliccando qui, vi vedete tutta la parte multimedia, foto grandi, con tutta la parte di planimetrie, video, eccetera. Quello che però voglio dare importanza è l'agente, vedete che sempre, sempre ci segue l'agente con la sua foto, dovete considerare che c'è il profilo agenzia, i titolari, che sono anche agenti, ma il titolare può creare altri titolari, io può creare degli agenti, quindi l'agenzia è fatta da un titolare, da n titolari e da n agenti, quando io clicco sull'agente, su visualizza agente, che cosa succede? Io entro nella pagina dell'agente, è tutto personalizzabile, i colori, le foto, è veramente il sito dell'agente, questa foto qua l'ho messa io, puoi scrivere una nota sull'agente, puoi vedere naturalmente, mi collego all'agenzia, questa gente fa parte di un'agenzia, che ha il codice ATECO controllato, è attivo, non deve essere solo codice ATECO 6831, ma deve essere anche attivo, a questo punto posso condividere, posso vedere le stelline, le case vendute, le case affittate, chiamarlo, mettere il like, le informazioni dell'agente, con la descrizione, da quanti anni lavoro, posso avere maggiori informazioni, vedete io che cosa faccio, lavoro come compravendita, locazioni, mutui prestiti e aste, quindi sono specializzato in queste attività svolte, questi sono i miei contatti, ogni volta che un cliente clicca qua, naturalmente voi dopo vedrete quante volte ha cliccato, che sono tutti i contatti che riceverete, in posizione sono della Federazione Italiana dell'Agenti d'Affari, va bene, naturalmente vedete, qui ho messo dei nomi a caso, non sono una, sono a caso i nomi, ho tutti i premi e riconoscimenti eventi, qui io posso inserire, tanti, noi li chiamiamo adesso, i traguardi riaggiunti, andando a vedere i traguardi riaggiunti, per esempio sono stato premiato, come migliore agente nel 2020, io qui come migliore agente, ho qui la mia galleria video, le foto, di quando sono, sono tutti esempi naturalmente, metto le descrizioni, di quando sono stato premiato, di quando ho fatto la premiazione, o anche, posso anche inserire il video della premiazione, quando sono stato premiato, quindi immaginate come voi dovete riempire e mettere tutte le varie informazioni, e che cosa dovete mettere qui dentro, io lo chiamo traguardi riaggiunti, qui dentro potete mettere un premio che avete ricevuto, mettere anche la licenza, il patentino che avete, mettete proprio il vostro patentino, mettete dei riconoscimenti, mettete un evento, perché avete assunto l'unica persona, avete fatto una bella, a fare i conclusi, una bella vendita, e volete farvi fare una review, una recensione, un video, da parte di vostri clienti, festeggiate con il vostro team, una serata, perché siete riusciti a fare una grande vendita, c'è qui dentro, io la chiamo un po' la parte facebookiana, questa è la parte, dove voi dovete riempire naturalmente, solo momenti speciali e traguardi raggiunti della vostra carriera, non dovete mettere la festa del compleanno di vostro figlio, cioè questo deve essere un qualcosa, che voi dovete riempire, mettere dentro, per far capire la vostra professionalità, che altro possiamo inserire nella mia pagina di agente, se io ritorno nella pagina di agente, io entro dentro e le informazioni tecniche, le mie specializzazioni, le lingue parlate, le zone servite dove io sono un esperto, le nazioni servite, spesso io, non so, seguo bene il mercato di Cannes, della Francia, e quindi metto la Francia, e poi tutta la parte invece, qui è più LinkedIn, questa è una sorta di LinkedIn, tutte le vostre esperienze, ho messo degli esempi, ho messo, potete inserire tutte le vostre esperienze lavorative, dove avete lavorato, il vostro curriculum, ne potete inserire inserendo i loghi dell'azienda, inserendo la descrizione, da quando a quando, se avete lavorato in altre agenzie prima, e LinkedIn, tutti voi conoscete LinkedIn. L'istruzione, dove avete studiato, e quindi tutta la parte delle istruzioni, e poi anche dovete inserire le provvigioni, è normale che le provvigioni rappresentano qui solo un'indicazione, perché deve essere sempre concordata tra le parti, questa è una frase fissa, lo diciamo sempre, però è importante dare delle indicazioni, su quanto mettete le vostre commissioni, nella compravendita, sia per l'acquirente che per il venditore, sono esempi, nella locazione, tutto questo lo fate voi, direttamente riempite, io ho fatto degli esempi, ma siete voi a mettere dentro queste informazioni. I canali dove voi chiedete una commissione ai clienti, ma cosa ci fate con la commissione che prendete dai clienti? In Italia è inclusa anche la pubblicità degli annunci, in Australia non era così, la commissione era al netto delle portali immobiliari, cioè se un cliente voleva vendere prima la casa, metteva dei soldi on top per vendere prima la casa e promuoverlo maggiormente, invece nella vostra commissione è sempre inclusa anche la promozione nei portali, nei vari canali, ma dove andate a spendere questi soldi? Voi spendete i soldi che vi dà nella commissione il vostro cliente online, sicuramente 70 per esempio, offline, io faccio affissioni, faccio giornali annunci, posso fare televisioni, eccetera. Queste sono le mie proprietà, che ho tutte le mie proprietà, quelle in vendita, quelle che ho venduto, è importantissimo mettere le case vendute, le case affittate. La galleria delle foto, le vostre gallerie delle foto, per esempio questo è il mio team, questa è una foto, il momento più bello, la consegna delle chiavi, inserite sempre le descrizioni, questa è la mia prima casa venduta, tutto finto naturalmente, così come mettete video, video, presentazioni della vostra agenzia, in questo caso sono nell'agente, qui vedete, ho preso un video di un agente immobiliare australiano, che lui si promuove, noi vi diamo lo strumento, vi create un canale su YouTube, inserite, fate un video, e a quel punto lo inserite qui dentro, nella galleria delle foto, e nella galleria dei video. Le recensioni, le recensioni abbiamo scelto, la strada delle recensioni, solo di case vendute e affittate, non è possibile che un cliente, possa mettere una recensione a caso, sul vostro, su voi, sulla gente, perché sappiamo cosa succede in Google, e quindi succede che qualche, qualcuno ci possa fare degli scherzi, mette delle recensioni non buone, invece qui si può inserire solo, se io lascio una recensione, posso inserire solo le recensioni di immobili venduti, e di immobili affittati, per un immobile venduto, poi si possono ricevere due recensioni, una da parte dell'acquirente, e una da parte del venditore, deve essere associato, qui in questo caso, io già le ho utilizzate, avevo una casa venduta, e sia il venditore che l'acquirente, mi hanno fatto la recensione, ma se ne avessi altri, io qui mi posizionavo sul mouse, e mi uscivano tutte le case vendute e affittate, a quel punto arriva la recensione a voi, voi decidete se accettare o no la recensione, quindi è normale che i voti saranno sempre alti, perché i voti saranno sempre alti, ma almeno abbiamo delle recensioni solo di persone, che sicuramente, vedete che qui recensione di Daniele, dell'agente Daniele Mancini, acquirente, e la recensione di Giorgio, che è il venditore, si può segnalare come utile, e quindi lo ritrovo tutto come utile, il cliente finale, ha tutto quanto la sua area qui dentro, se io entro adesso nell'agenzia, l'agenzia qui, anche qui è tutta customizzabile l'agenzia, vedete che c'è il logo agenzia verificata, dove c'è dentro, è stata verificata l'appartenenza ad un'associazione o col codice a teco corretto nella Camera di Commercio, anche questa agenzia non ha negatività negli ultimi sei mesi, quindi non ha protesti, non ha cambiali, non ha segni, non ha pignoramenti, eccetera, naturalmente se è rossa non esce, non esce rosso il logo, esce solo, se beh, cioè è importante dare visibilità, ha i migliori, se ci sono delle negatività, non esce fuori il logo con la negatività, fa parte della FIAIP, la recensione, la somma delle recensioni di tutti gli agenti, l'agenzia esiste in quanto esistono tanti agenti, e a questo punto vedo, ecco, questi sono gli agenti che fanno parte del team dell'agenzia, ci sono tre agenti, che lavorano per la Casa Bella, e a quel punto posso vedere tutte le proprietà dell'agenzia, ma posso anche vedere i riconoscimenti, gli eventi dell'agenzia, quindi la migliore agenzia del 2020, la cerimonia, questo era un consegno di un assegno a Genova, e quindi abbiamo messo dentro il dettaglio dell'assegno, la galleria foto, e qui sbizzarritevi con le foto, quindi anche in questo caso il team, la nostra agenzia, come è internamente foto dell'agenzia, le vetrine, le vetrine sempre aggiornate, quindi vedete, io ho messo degli esempi, ma sta a voi capire cosa mettere qui dentro, così come è importante, fatevi come ho detto per la gente, anche per l'agenzia, dovete lavorare sui video, questo è un esempio di un video, ma qui cercate di farlo anche in maniera professionale, perché è la presentazione della vostra agenzia, che tutti vedranno, quindi potete forwardarlo, in Facebook, in Whatsapp, in email, dappertutto, vedete come sempre di più, vi ho parlato sì degli annunci, ma mi interessa molto di più l'agente, l'agenzia immobiliare, che ha annunci, quindi parto dall'agenzia e dall'agente, le recensioni di tutti gli agenti, eccetera, e poi c'è tutta la parte delle richieste. Adesso andiamo nella parte del vostro gestionale, il gestionale, chiamiamolo gestionale, ma chiamiamolo più back office, più un direi, dove voi potete caricare gli annunci con tutti i gestionali che già utilizzate, come abbiamo detto, domani vi arriverà un'email, in questi weekend, domani vi arriveranno un'email, dove riceverete un'email, basta che cambiate la password, e voi vi ritroverete, cambiando password, già dentro, in questo gestionale, in questo back office, dove vi ritroverete tutti gli annunci che avete in Cerca Casa, il backup l'abbiamo fatto venerdì, a quel punto voi entrate dentro, e dovete inserire le vostre informazioni, quindi gli annunci potete continuarli, a caricare sempre sui vari gestionali, noi siamo collegati, come oggi il cercacasa.it, quello che c'è online, siamo collegati ai gestionali che oggi utilizzate normalmente, è normale che ci saranno delle informazioni, così come sulle vostre agenti, e su di voi, dove le potete inserire solo qui, così come andremo a vedere altre informazioni, che potete inserirle solo nelle back office, il 16 come abbiamo detto, voi domani, dopo domani ricevete queste mail, iniziate a inserire le informazioni, il 16 il cercacasa.it, che c'è adesso online, verrà spento, e noi accenderemo il nuovo cercacasa.it, quindi quello che inserite voi oggi, da domani in poi, voi lo ritroverete il 16 online, quindi fino al 16 è solo dedicato a voi, potete inserire tutto quello che volete, ma è importante dire che quello che inserite, poi ve lo ritroverete online il 16, quindi non è che domani ricevete la mail, lavorate su questo back office, e dite ma perché non c'è online su cercacasa.it, c'è cliccando su questo pulsante qui, perché entrerete nel cercacasa, questo in test, ok? Qui dentro cosa potete fare? Potete inserire un nuovo annuncio, appena cliccate in lista annunci, voi avrete tutti gli annunci, che avete caricati con i vari gestionali, e li ritroverete qua, io ne ho solo 4, voi ne avrete 30, 40, 50, e a questo punto potete selezionare gli annunci, potete andare ad associare gli annunci ai vostri agenti, come si crea prima un agente? Io invito un agente della mia agenzia, quindi ripeto, c'è un titolare, infatti vedete che qua c'è profilo titolare, il profilo titolare è lui che gestisce il profilo dell'agenzia, io invito un agente, l'agente riceverà un'email, e l'agente entrerà e sarà collegato, e quindi io avrò tutti i miei agenti collegati qui al link, i tuoi agenti, questi sono due agenti che lavorano con me, quindi io qui avrò tutti gli agenti, dei miei agenti io posso vedere tutte le statistiche, i like che ho ricevuto, i numeri preferiti, le recensioni che ha, gli annunci che ha, eccetera, se io vado nella lista annunci, vedete che qui nella lista annunci, io ho questo annuncio che è gestito da un mio agente, io come titolare vedo tutto, io posso anche creare come titolare, se voi avete un socio, io posso creare anche un altro titolare, quindi dargli le cariche del titolare, così come io ho due agenzie, io mi posso creare due agenzie, e quindi entro dentro e avrò due agenzie, e dovrò seguire due agenzie. Ritornando nella lista degli annunci, entro su un, per esempio, su un immobile in esclusiva, qui dentro io posso vedere, vedete tutte le recensioni, le richieste, posso vedere quante ne hanno, ritorno un attimo su questo, quindi già dal dashboard, dalla dashboard io posso capire le statistiche di questo annuncio. Andiamo avanti, qui, se io vado a vedere adesso questo appartamento, via Giuseppe Dezza, entro dentro, vedete che qui ho le informazioni di base, fondamentale, questo annuncio non è in esclusiva, andiamo a prenderne uno in esclusiva, perché così capite come funziona l'esclusiva, per andare a fare un'esclusiva, se io entro qui in dettaglio immobili, io avrò che questo immobile è in esclusiva, significa che abbiamo bloccato nel catastro, noi abbiamo ricreato, stiamo ricreando con quell'altra società che si chiama uise.com, stiamo ricreando il catastro, quindi con tutti i subalterni. A quel punto, quando voi avete questo annuncio, ci sarà un'area catastro, dove voi qui dentro potete recuperare dall'indirizzo i dati catastrali, potete andare a inserire il subalterno, particella o li recuperate, e a quel punto bloccate questo subalterno. Da qui già potete fare tantissime altre cose, perché avendo oramai l'immobile collegato al catastro, voi potete fare, se siete abbonati anche in Uise, ripeto, ci sono delle funzionalità del cerca casa, altre funzionalità di Uise del catastro, quindi qui dentro potete anche farvi la catastale, l'ipotecaria, la mappa catastale, vi potete scaricare l'atto notarile post 2012, farvi una nota di conservatoria, conservatoria, vedere i proprietari, scoprire i proprietari della particella, quindi entrando, cliccando qui, io mi vedo tutti i proprietari dell'immobile di quel numero civico, quindi di tutti i subalterni, e così come tutta la lista. Quindi mettendo i dati catastrali o recuperandoli tramite Uise, a quel punto io ho bloccato quel subalterno e quindi io vado per un periodo da, non mi ricordo che giorno avevo messo, quindi per un periodo di sei mesi, cinque mesi, ecco, dal 28 marzo al 18 ottobre, io ho questo immobile che è bloccato e quindi se qualcun altro prova ad inserire con quei dati catastrali l'annuncio, l'annuncio è salvo, non riesce, riceverà un alert dicendo guarda che questo immobile è già bloccato dall'esclusiva, o lo inserisce senza catastro, va bene, però tutti gli immobili in esclusiva noi li mettiamo con maggiore visibilità. Ricordatevi, noi premeremo l'esclusiva, premeremo tutti quelli che inseriscono informazioni che sono verificate, eccetera, quindi anche l'annuncio con l'esclusiva, ci sono tanti vantaggi dell'annuncio con l'esclusiva, quindi ci sarà la labeling in esclusiva, visualizzazione prioritaria nel caso di appartamenti simoni nello stesso numero civico, possibilità per i clienti di fare ricerca per immobili con incarico in esclusiva e altre agenzie che non possono pubblicare. Questo per noi è una delle cose più importanti, così come si possono vedere, va bene, i dettagli dell'immobile, la posizione dove è l'immobile, le immagini, potete inserire le immagini, le descrizioni, il video della foto, il video dell'appartamento, i 360, come vi ho fatto vedere, il catastro e scaricarvi tutti è proprio collegato al catastro e conservatoria, c'è sister dietro, i clienti, io qui mi posso andare a vedere anche tutti i clienti, in questo caso è un proprietario, io posso anche vedere se questo proprietario, collegandomi alla camera di commercio, perché è collegato alla camera di commercio e altri al catastro e conservatoria, io ho tutti i miei clienti e posso andarmi a vedere se i clienti collegati o anche i clienti che hanno mandato le recensioni o le richieste specifiche, se sono verdi o rossi, cioè vedete che in questo caso questo Paolo Biasi è verde, quest'altro è rosso, questo rosso significa che ha delle negatività, quest'altro verde invece, se io clicco su questo Paolo Biasi, quello che è, io se entro dentro e vado a vedermi questo cliente, io posso andarmi a vedere tutto, la visura catastale di questo cliente, la mappa catastale, la nota di conservatoria, mi vado a vedere l'affidabilità e la situazione patrimoniale, cioè cliccando su questo pulsante io entro in quest'altra figura dove vedo tutto il patrimonio di questa persona, le negatività, se ha cariche partecipazioni, posso vedermi tutto su questa persona, quindi è importante capire come io posso anche collegarmi ai clienti e crearmi tanti clienti e trovarmi qua la lista di clienti, immaginate la comodità quando io ricevo una richiesta, le richieste specifiche, vi mando le richieste specifiche, io dal nome e dalla residenza che noi chiediamo anche la città dove vive, non obbligatoria, noi possiamo risalire a questi clienti che hanno mandato delle richieste specifiche e andare a fare il controllo, quindi ogni mattina voi potete capire se quel cliente è il cliente giusto per quella casa. Nel mondo dell'affitto della locazione, io mi vado a prendere i migliori conduttori, quelli che hanno altre proprietà, perché se hanno altre proprietà bisogna preferirli a quelli senza proprietà, perché se non pagano gli si pignora l'immobile, quelli che hanno delle negatività e quindi vado a preferire i migliori clienti e quindi dalla richiesta specifica, io mi ricordo quando seguivo Casa.it, dalla generica siamo passati alle specifiche, ma per me oggi è un passaggio ancora più importante, io le chiamo specifiche power, cioè la specifica io mi studio la persona e quindi ogni mattina io saprò a chi dare la mia priorità, a chi rispondere a di questi clienti qual è il miglior cliente. Vedete che la nostra forza di Cerca Casa qual è? Se voi immaginate un idealista e un Casa.it, un immobiliare.it è una sorta di albero con delle piccole radici, invece se parliamo di Cerca Casa, Cerca Casa ha tantissime radici collegate anche a tutti i database pubblici italiani, che è stato uno sforzo enorme. In questo caso potete vedere come ho detto le recensioni e mi vedo tutte le recensioni che ho ricevuto sia dal venditore che dall'acquirente, mi posso vedere il profilo dell'agenzia, posso crearmi e andiamo adesso a sistemare il profilo dell'agenzia, io qui dentro metto tutte le informazioni, la posizione dell'agenzia, le statistiche, mi creo il logo e il colore della mia pagina dell'agenzia, mi inserisco una cover o se voglio non metto la cover e vedo tutti gli immobili, l'immagine e video come vi ho fatto vedere, mi creo i premi e i riconoscimenti, così come per il titolare è qui che create quello che vi ho fatto vedere, quindi il profilo dell'agente, la foto, la cover dell'agente, i contatti e quindi qui mettete tutti i vari contatti di LinkedIn, di Facebook, dove andate a promuovere, che canali di promozione utilizzate, l'indirizzo, le vostre, l'indirizzo mettendo le zone, basta che scrivete una zona, Milano Solari, vedete che esce fuori, Milano Solari e la aggiungo, o le nazioni che io conosco bene, così come le varie competenze, io qua posso cambiare e inserisco una percentuale, massimo 100%, io non so, io ho messo 40% compravendite, 40 locazioni, 10 e 10, ma voi potete anche inserire, so che c'è Auxilia, anche inserire che siete esperti 100% di mutui e prestiti, sono agenti immobiliari dal 2007, collaboro, sì, le lingue che parlo, le specializzazioni, i portali che utilizzo, l'incarico a vendere, vedete quante informazioni andiamo a mettere nella gente, le provvigioni, come ho detto, d'accordo anche col Presidente, abbiamo inserito la frase, che come abbiamo sempre detto, è un'indicazione, ma per creare una provvigione è facilissimo, basta che si va qua dentro, si decide per che tipologia di attività e dico per l'acquirente da quanto a quanto, che tipo di commissione è il valore della commissione, e quindi si inseriranno per le varie categorie, così come lavoro e formazione, io inserisco, questo è proprio LinkedIn, inserisco la mia esperienza lavorativa, dove ho detto potete entrare dentro, vedere tutto, è facilissimo farlo, quindi io quello che vi chiedo, come ho detto anche all'introduzione, è mettervi lì da domani, dopo che avete ricevuto la mail, e inserire, inserire immagini e video, quindi qui tutti i video YouTube, le immagini con le descrizioni, fondamentale le descrizioni. Per ultimo, quando io vado a ricercare l'agente immobiliare, questo sito, come vi ho fatto vedere, è solo riservato ad agenti con, dove, ecco, solo agenti con codice ATECO, quando voi siete tutti collegati, FIAIP, quindi riceverete il mail entrato in automatico, perché FIAIP garanzia che è un'agenzia immobiliare titolare di un patentino, ma appena apriremo, come ho detto, per tutti gli agenti immobiliari italiani, loro entreranno in quest'area e dopo che si registrano, noi fermiamo la registrazione e andiamo subito in camera di commercio, se non è un codice 6831 e non è attiva, perché anche se è fallita o inattiva noi non lo accettiamo, fallita, chiusa, eccetera, deve essere attiva, a quel punto facciamo andare avanti. Chi altro può entrare dentro questo portale? Può entrare il consulente di un'agenzia, cioè una persona entra dentro, a quel punto si registra, arriverà allo step agenzia e chiederà di collegarsi ad un'agenzia, quindi lui compila codice fiscale, entra dentro, a quel punto si ferma e dice scegli l'agenzia a cui collegarti e lui diventerà un agente, quindi non solo può ricevere l'invito ma si può anche collegare come agente, oppure anche tutti i ragazzi giovani o tutte le persone che cercano lavoro si possono inserire come consulente in cerca di lavoro, entrano dentro, naturalmente non possono pubblicare annunci perché non hanno il patentino, però possono fare tutta la parte di LinkedIn, quindi a quel punto voi dopo potete andare a ricercare qui non solo io avevo messo solari, io posso ricercare un agente per il luogo e quando dico ricerco un agente scelgo una via, non so come ho detto via Valparaiso come avevo detto, a quel punto io dico ricercami in via Valparaiso tutti gli agenti in cerca di opportunità, quindi che cosa succede? l'agente, il consulente voi potete utilizzare questo strumento anche per cercare collaboratori o lo stesso collaboratore può, lo stesso consulente mette qui dentro il curriculum, a quel punto lui si riempie tutto il profilo, lo stampa e si presenterà in agenzia da voi con il profilo stampato, questo è importante perché il social, la parte network, come ho detto questa è una community di professionisti immobiliari, sarà sempre d'accordo anche con Paolo Righi, sarà sempre gratuita, cioè per noi è come ho detto Cerca Casa è la community dei professionisti immobiliari e del posto ideale per trovare la casa ideale tramite i professionisti immobiliari ma anche come ho detto anche in cerca di opportunità è anche comodo io posso ricercare un agente per nome quando inserisco Daniele Mancini escono fuori tutti gli agenti vedete FIIP, Meeting qua ci ho messo diversi e cliccando dentro io entro direttamente nell'agente è uguale come vi ho detto a LinkedIn io mi fermerei qui perché ho fatto vedere tante cose però io vi chiedo questa è una fase dove nei prossimi mesi noi continueremo con un team molto importante di sviluppatori e il team è anche mio che è tutta la parte marketing, commerciale la parte di sviluppatori siamo lì che continueremo a sviluppare nuove e nuove funzionalità quindi nei prossimi mesi luglio, agosto intanto inserite informazioni perché Google ci mette sempre un po' di tempo a indicizzare i vostri contenuti se voi adesso vedete io che scrivo Daniele sul mio qua sull'URL vedete che scrivo Daniele Mancini vedete che esco subito con Daniele Mancini agenti immobiliari Milano cioè il segreto nostro è dare una forza alla vostra reputation alla vostra brand awareness di agente di agenzia che quando uno scrive il vostro nome su Google voi uscite sempre per prima questo è fondamentale si può andare anche in casa IT in immobiliare idealista ma se poi io voglio controllare noi con il nostro strumento vi facciamo uscire proprio la vostra reputation io mi fermerei qui e lascio la parola al direttamente alla prossima sessione allora voglio dire una cosa intanto ringrazio Daniele non so ci vorrebbe un po' d'acqua perché interrottamente hai spiegato nel dettaglio molte cose io ho capito quello che mi mancava ma tu essendo del settore all'inizio quando abbiamo presentato cercacasa.it è una community hai detto degli agenti anche immobiliari ed è esattamente questo il concetto che è il valore aggiunto rispetto a quello che dicevamo all'inizio anche con Paolo Righi di questa piattaforma insomma di questa versione nuova di cercacasa.it allora intanto volevo ringraziarti lo annunciavi nelle ultime cose che hai detto che poi ci saranno ulteriori implementazioni ovviamente sottolineo ancora una volta quanto tu avevi detto e credo che tu abbia detto anche in questa presentazione cioè che è fondamentale ovviamente il ruolo degli agenti immobiliari nel compilare nel mettere i dati nel raccontarsi no? perché quello è il curriculum che serve poi perché anche chi cerca su cercacasa la casa instaura insomma cresce il rapporto di fidelizzazione anche nei confronti della persona insomma della gente questo si aggiungo che sono veramente 20 anni che sono di più 25 anni sono nel mondo digitale immobiliare e ho sempre sentito parlare di agenzie e di agenti che mi dicevano mettiamo 100 euro mettiamo 200 euro e facciamo un portale adesso ce l'avete quindi vi chiedo per piacere mettete informazioni c'è il portale quindi l'abbiamo fatto e per tutti e per tutti voi quindi dopo non si dovranno lamentare più io dopo sono anche un po' duretto alla fine non ci sono più alibi dici no ma è giusto perché poi bisogna essere pragmatici perché io chiedo poi l'aiuto nel senso non è sempre mettendo tutto il nostro aiuto però chiedo l'aiuto alle agenzie e dopo se mi dicono ma noi non abbiamo un portale adesso c'è solo per voi quindi immaginate che partiamo teoricamente sfavoriti perché abbiamo meno annunci perché abbiamo solo gli annunci agenti immobiliari non abbiamo gli annunci dei privati quindi forza a mettere gli annunci e forza a riempire di informazioni di contenuti il vostro sito l'avrai detto scusami forse mi è sfuggito se ho bisogno di un contatto diretto perché mi serve un aiuto mi serve una mano mi serve una consulenza c'è sempre sotto assistenza ecco è importante grazie della domanda perché c'è sempre nel footer tutta la parte nella parte inferiore tutta la parte di assistenza delle mail quindi tranquillamente o anche noi insieme con il presidente Baccarini inizieremo a parlare a presentare a educare perché è anche un po' uno switch l'agente immobiliare che prima non curava la parte online e lo curava solo per gli annunci oggi si ritrova a dire io devo curare la mia immagine online quindi è anche un po' uno switch proprio culturale culturale grazie